In fila per fare il tampone anche il consigliere regionale della Lega, Tony, di Gianvittorio. Con lui in auto i suoi collaboratori, dopo che alcuni componenti del gruppo politico regionale hanno fatto registrare personale positivo. Consigliere, perché è qui in fila anche lei per i tamponi? Sì, buongiorno. Sono in attesa anch'io di fare il tampone, perché nel nostro gruppo Lega purtroppo è risultato un ragazzo positivo. È preoccupato? No, no, assolutamente. È la seconda volta, quindi nessun problema. Ecco, è un dramma questo del Covid. Purtroppo ci sono tantissimi contagi ad oggi, quindi dobbiamo tutelarci e tutelare il prossimo. 40.000 tamponi, finora ci ha detto il dottor Pinto. Sì, diciamo che negli ultimi due giorni sono stati tra sabato e domenica 3.000 tamponi, quindi tantissimi. La regione fa abbastanza? Tantissimo, stiamo facendo un ottimo lavoro su tutto il territorio. Grazie. 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 Grazie.